Bocciati dalla Corte Costituzionale i referendum elettorali per i giudici della consulta non sono ammissibili i due quesiti che chiedevano la modifica all'obrogazione totale dell'attuale legge elettorale, il cosiddetto porcellum, in vigore dal 2005. I promotori non siamo sorpresi ma non ci fermeremo. E la Camera vota tra poco la richiesta d'arresto per l'ex sottosegretario Cosentina accusato di collusione con la Camorra che ha annunciato, mi dimetto comunque da coordinatore del PDL Campano, Bossi ha annunciato che i parlamentari leghisti avranno delle voto nel voto libertà di coscienza. Ed è un successo l'asta dei botte di oggi, collocati tutti i titoli a sei mesi e a un anno a tassi più che dimezzati, immediati i benefici sullo spread, il differenziale di rendimento tra BTP decennali e Bund tedeschi scende intorno a quota 480 punti, bene piazza affari trascinata dal rialzo dei titoli bancari. E l'Italia spinge sulla crescita dell'Unione Europea ma non ci sono nuovi vincoli di bilancio e il rigore dei conti non è una novità di questi giorni, così il Premier monti nell'informativa alla Camera dopo l'incontro di Berlino con il cancelliere Angela Merkel in vista dei nuovi impegni europei. Ed è corsa contro il tempo per le liberalizzazioni che il Governo vuole approvare entro il 20 di gennaio. La bozza del decreto sulla libera concorrenza prevede grandi novità per le imprese, le professioni e servizi ai cittadini, per le proposte monti consensi politici ma anche proteste dalle categorie. Buongiorno dal telegiornale della Sette, oggi ci sono due importanti eventi, c'era molta attesa per la decisione della Corte Costituzionale sui due quesiti referendari che puntavano ad abrogare o a modificare in parte l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Porcellum. Ebbene poco fa è arrivata la decisione, il verdetto della Corte Costituzionale sono entrambi inammissibili e tra poco vedremo le reazioni a questa importante decisione della Corte Costituzionale. Ma oggi c'è anche un importante voto, il voto sul deputato del PDL Cosentino. Come sapete il deputato del PDL è accusato di avere rapporti con la Camera, tra poco c'è il voto alla Camera sulla richiesta d'arresto, in questo momento è in corso il dibattito. È un importante voto perché c'è anche una tensione, una divisione all'interno della Lega, perché questa mattina Bossi ha dato libertà di coscienza ai suoi, mentre Maroni e Maroniani sono favorevoli all'arresto del deputato del PDL che questa mattina ha fatto sapere, comunque Vata io mi dimetterò dalla carica di coordinatore del PDL in Campania. Allora, vediamo questo servizio di Leslie Guglielmetti. Consido molto nella libertà di coscienza di ogni parlamentare che alla luce della lettura degli atti si potrà rendere esattamente conto di come ci sia una forzatura enorme in questa vicenda. Queste le parole pronunciate da Nicola Cosentino a mattino 5 in un'intervista con Maurizio Belpietro, poi l'annuncio che comunque vada il voto di oggi lui si dimetterà da coordinatore campano del PDL. Ora, al parlamentare accusato dai giudici campani di essere il referente politico del clan dei Casalesi, non resta che attendere l'esito del voto a Montecitorio sulla richiesta di arresto. Un voto il cui esito appariva scontato fino a ieri, tanto che Cosentino aveva già pronta la valigia per il carcere di Poggio Reale. Ma la decisione di Bossi, arrivata ieri sera, di lasciare libertà di coscienza ai propri deputati, riapre una partita che sembrava chiusa due giorni fa, quando Maroni aveva annunciato che i leghisti avrebbero votato per l'arresto dell'ex sottosegretario, non intravedendo Fumus Persecutionis nella richiesta dei magistrati, ma anche per non ingogliare altri rospi. Nicola Cosentino sembrava dunque ormai condannato dall'alleanza trasversale PD-IDV-Terzo Polo e Carroccio, un fatto che avrebbe davvero sepolto definitivamente l'alleanza tra il Carroccio e il PDL. Ma lo scenario dell'arresto di Cosentino e di questa rottura politica sono apparsi subito insopportabili per Berlusconi, che si è messo in moto, contattando direttamente Bossi. Il capo leghista nella serata di ieri ha annunciato che non vedeva elementi di novità nelle carte, e quindi lasciava libertà di voto ai suoi. Insomma, la partita si riapriva e l'esito del voto di oggi non è più scontato, soprattutto se il PDL chiederà il voto segreto. Un segreto dietro il quale potrebbe davvero succedere di tutto ed inevitabile sarà la conta di eventuali franchi tiratori anche nelle file del PDL. Un voto i cui effetti saranno deflagranti all'interno della Lega. Di fatto la libertà di coscienza ha messo nuovamente in rotta di collisione Bossi e Maroni, che si era speso per il sì all'autorizzazione all'arresto. Ma la partita è molto complessa. C'è chi dice che potrebbe pesare anche sulle sorti del governo Monti, visto che per la prima volta si troveranno su fronti opposti e con grande durezza PD e PDL, con il terzo polo e grandi sostenitori del governo tecnico. Quindi tra poco vedremo come voterà la Camera. Intanto torniamo a parlare dell'incontro di Monti con la cancelliera Merkel. Evidentemente è stato un incontro fruttuoso perché ha anche rassicurato i mercati. Oggi infatti è arrivata da loro una risposta positiva. Le asse dei titoli a sei mesi o un anno sono andate molto bene con i tassi, più che dimezzate rispetto alle precedenti collocazioni. Lo spread è sceso sotto i 500 punti. Molto bene anche Piazza Affari che segna un più 3%. Vediamo il servizio di Marco Fratini. L'aveva buttata lì Monti, non certo per caso. I tassi, intesi come rendimenti, ora devono scendere, aveva chiesto. Detto fatto, questa mattina sono addirittura crollati. Al primo test del nuovo anno le rese dei nostri bot, la più nazional popolare delle merci finanziarie, si sono più che dimezzati. Gli interessi sul debito peseranno meno. Parlino i numeri. Il rendimento del buono del tesoro a un anno, ecco, si restringe dal 5,95% al 2,73%. Quello a sei mesi lo fa dal 3,25% all'1,64%. Ed è da tantissimo tempo che le nostre grafiche non pennellavano di verde questi calcoli. Finalmente più benevoli del solito, perché significa che addimezzarsi, soprattutto, è stato il rischio Italia. Poi forse non c'è stata una gran fila, ma il tesoro ha piazzato comunque i 12 miliardi previsti con slancio. È solo la prima fettina degli oltre 400 miliardi che dovrà spalmare entro l'anno. Tecnicamente erano scadenze brevi, le meno ostiche, visto che l'Italia si affanna su quelle medio-lunghe. Ma l'effetto emolliente sullo spread è stato immediato. Il differenziale è scivolato abbondantemente sotto i 500 punti, totalizzando un rendimento più umano per i nostri BTP, più vicino al 6,5% che al 7%. Merito di Monti? Merito dei suoi viaggi della speranza? Qualcuno spiega che sui mercati da qualche ora arrivano indicazioni dalle stanze dei bottoni, dai cosiddetti investitori istituzionali, sull'Italia è tempo di cambiare opinione ed è successo. Se si guarda il rialzo di Milano a metà seduta rispetto alle cugine d'Europa, si capisce che oggi siamo noi i protagonisti. Piazza Affari accelera alla grande e lascia indietro sia Parigi sia Francoforte. E anche questo non è un caso. È un quadro che si ricostruisce anche grazie ad una buona giornata dei titoli bancari. Unicredit continua a riconquistare terreno, l'aumento di capitale prosegue meglio di come abbia esordito. Circolano molte voci sui nuovi azionisti che sono entrati dalla finestra dei crolli, compresi i fondi sovrani del Kazakistan alla terra dei cosacchi che però smentiscono. Non rovina la festa nemmeno il dato della produzione industriale di novembre, un meno 4% circa annuale che però sulle auto diventa un meno 24% e oltre che oggi passa via in silenzio. Fra pochi minuti la Banca Centrale Europea darà la rotta mensile sui tassi. Mario Draghi finora ha già sorpreso due conferenze stampa, due tagli. Probabilmente non ricapiterà subito, ma febbraio e marzo potrebbero portare tassi verso lo zero all'americana. E siccome il detto dice che non c'è due senza tre, meglio non distrarsi, anche oggi. Allora facciamo un passo indietro, torniamo all'aver detto della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili due quesiti che miravano ad abrogare o modificare l'attuale legge elettorale. Sentiamo il servizio di Barbara Batticciotto. 1.200.000 firme buttate nel macero. Il referendum sulla legge elettorale non si farà. Dopo un giorno e mezzo di Camera di Consiglio, i 15 giudici della consulta sono arrivati al verdetto finale. La bocciatura di entrambi i quesiti presentati dal Comitato Promotore del referendum sulla legge elettorale. Sia quello che chiedeva l'abrogazione totale, il cosiddetto procellum in vigore dal 2005 figlio dell'eghista Roberto Calderoli, sia quello che chiedeva solo l'abrogazione di alcune sue parti. Posso dirmi tutto fuorché sorpreso dalla decisione, ha commentato a caldo Arturo Parisi, il promotore della raccolta di firme. Rispetteremo la decisione, ha continuato l'esponente del PD, ma continueremo la battaglia per dar voce alle firme raccolte, certo in modo diverso, dentro il Parlamento e fuori. L'Italia si sta avviando lentamente ma inesorabilmente verso una pericolosa deriva antidemocratica. Manca solo l'olio di ricido, ha dichiarato il leader dell'IDV Antonio Di Pietro. Ha vinto la vecchia partitocrazia, perciò è tempo di scendere nelle piazze per una protesta attiva della società civile che non può assistere a un regime. Ne prendo atto, ma credo che il Paese ha tanti problemi e quello della legge elettorale non è tra le priorità, ha commentato il capogruppo della Lega alla Camera Marco Reguzzoni. E comunque, aggiunge, la riforma elettorale deve essere fatta al termine di un processo di riforma istituzionale. Mi sembra però che il governo non abbia nessuna intenzione di mettere le riforme istituzionali in agenda, anche se, conclude, auspichiamo che i progetti di legge firmati da Bosse e Calderoli possono andare avanti. Comunque i partiti, al di là della decisione della Corte, sembrano pronti a mettere mano alla riforma della legge elettorale. La decisione di oggi era molto attesa anche dal governo. C'è chi dice che la bocciatura dei quesiti possa aver definitivamente fugato l'ipotesi di elezioni la prossima primavera. Allora, ci sono due aggiornamenti in merito a questa decisione. C'è una nota del Quirinale. Negli ambienti del Quirinale si rileva che parlare della sentenza odierna della Corte Costituzionale come di una scelta adottata per fare un piacere al Capo dello Stato è una insinuazione volgare e del tutto gratuita che denota solo scorrettezza istituzionale. E poi, secondo quanto apprende l'Agi, l'Agenzia Agi, la legge Calderoli non è incostituzionale ma comunque andrebbe cambiata. Stando a quanto apprende l'Agi, nella motivazione che verrà depositata nei termini di legge, la Corte Costituzionale solleciterebbe comunque il Parlamento a cambiare il porcellume. E adesso andiamo avanti con le notizie del giorno perché all'indomani dell'incontro con la cancelliera tedesca Merkel Monti questa mattina ha intervenuto alla Camera per riferire sui suoi incontri europei anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti di Bruxelles che sono l'Eurogruppo e il Consiglio europeo. Monti comunque si è detto ottimista sugli obiettivi fissati dal governo. Sentiamo Manuela Ferri. L'Europa non è solo disciplina di bilancio e quindi è molto importante che si passi oltre senza dimenticare l'aspetto disciplina ma si investa più energia politica costruttiva sul versante della crescita. Mario Monti riferisce alla Camera sull'esito degli incontri internazionali che l'hanno visto impegnato negli ultimi giorni. In aula il Presidente del Consiglio ricorda i futuri importanti appuntamenti il 18 gennaio con il Premier inglese Cameron il 20 il trilaterale con Merkel e Sarkozy il 23 l'Eurogruppo e l'Ecofin infine il 29 il Consiglio europeo. In tasca il professore ha non solo le parole di elogio della cancelliera tedesca sulla manovra ma anche l'impegno della Germania a potenziare il Fondo europeo salva stati. è soddisfatto Monti per i risultati dell'incontro di Berlino le bacchettate al direttorio franco tedesco hanno funzionato la Merkel infatti ha anche convenuto sulla necessità che insieme al rigore siano rilanciate crescita e competitività. Una sintesi della strategia del governo che il Premier ribadisce a Montecitorio avanti dunque con il pacchetto delle liberalizzazioni. L'Italia deve giocare un ruolo attivo per contribuire a condurre l'Europa di nuovo sul cammino della stabilità e della crescita. Ruolo che però deve essere legato alle azioni che vengono condotte nel nostro Paese scandisce il Premier con le politiche su risanamento e sviluppo. L'Italia afferma sta negoziando affinché il patto salva euro non introduca vincoli più rigidi o ulteriori sanzioni per la finanza pubblica. L'obbligo di rientro sul rapporto debito pubblico PIL sottolinea non è una nuova decisione è già una legge europea. Ora l'Italia deve confermare l'immagine di un Paese maturo che non cede di un millimetro sulla linea del rigore evitando però di cadere preda di un formalismo eccessivo. Infine sottolinea che dietro all'azione del governo in Europa è molto importante che ci sia il fondamentale indirizzo e contributo del Parlamento. L'Italia ha fatto i propri compiti ora tocca all'Europa farli alla replica del PDL alle parole di Monti l'ex ministro degli esteri Frattini insiste sulla necessità di una maggiore integrazione europea e mette in guardia se crolla il castello europeo cadremo tutti quanti. Non bastano le liberalizzazioni afferma per il PD Massimo D'Alema ma ci vogliono grandi programmi di investimenti su innovazione, infrastrutture e formazione. La Lega attacca Monti e l'Europa dal carroccio una provocazione forte per uscire dalla crisi si stampi moneta anche correndo il rischio dell'inflazione. Una visione barbara per Buttiglione dell'Udc che conferma su pieno sostegno l'azione del Presidente del Consiglio. Allora dicevamo che il piatto forte della cosiddetta fase 2 sono le liberalizzazioni lo abbiamo sentito Monti vuole fare presto approvare un decreto entro il 20 di gennaio. Sentiamo Antonella Serrano. Per ora circola solo una bozza sulle liberalizzazioni. Il Governo ci sta lavorando ma smentisce le anticipazioni. I 28 articoli comunque taglierebbero tutti i lacci che bloccano la concorrenza economica nel nostro Paese dalle professioni al commercio dalle farmacie ai tassisti ma c'è anche molto altro tra le ipotesi di apertura dei mercati infatti ci sono anche quelle che riguardano le autostrade la rete ferroviaria e le poste. Spunta anche una modifica all'articolo 18. Si tratterebbe di un nuovo comma con il quale si farebbe scattare l'obbligo di reintegro nel caso di fusione tra due o più piccole aziende solo se il numero totale dei dipendenti fosse superiore a 50. Tra le novità più importanti capaci di abbassare i prezzi e iniettare competizione nelle professioni c'è da segnalare la cancellazione delle tariffe di tutte le tariffe sia minime che massime. In altre parole se si dovesse aver bisogno di un avvocato o di un notaio o di un architetto insomma di un qualsiasi professionista che non sia un medico il corrispettivo del lavoro verrebbe concordato tra il cliente e il professionista. Dovrebbe essere scritto su un preventivo e ci dovrebbe essere anche la stipula di un'assicurazione con la quale il professionista risponde per eventuali danni provocati al cliente. Per quanto riguarda poi l'accesso alle professioni si prevede di anticipare il praticantato dei giovani non più dopo la laurea ma durante gli ultimi due anni di studi universitari in pratica come succede con i tirocini dei medici cambiamenti che se non si possono chiamare rivoluzionari sicuramente sono epocali. L'altro cambio di passo toccherà i benzinai potranno comprare i carburanti da più aziende petrolifere e diverse dal marchio dell'impianto e potranno trasformare il distributore in veri minimarket e vendere così anche sigarette giornali e altro. aumenteranno poi sia il numero delle farmacie e un punto vendita ogni 3.000 abitanti che i posti di notaio 500 posti in più all'anno fino al 2013. Per ora Palazzo Chigi non riconosce come sua la bozza in circolazione ma quella che molti quotidiani propongono è sicuramente una buona base del decreto legge che il premier Monti ha annunciato di voler varare entro il 20 gennaio prossimo. Un via libera a Monti arriva dal leader del PD e autore delle precedenti lenzuolate. Per Bersani il governo deve avere coraggio e chiedere contributi alle categorie che finora non hanno dato nulla. Ma gli interventi per liberalizzare già suscitano polemiche e proteste. I primi a scegliere la lotta dura contro l'aumento delle licenze in alcune città sono i tassisti che hanno deciso di scioperare il prossimo 23 gennaio. A Napoli da ieri sera le auto bianche hanno invaso Piazza Plebiscito il cuore della città e non hanno nessuna intenzione di liberarla. Appunto in proposito un blocco totale dei taxi per lo sciopero sarebbe illegittimo occorre rispettare alcune garanzie circa le prestazioni offerte al pubblico lo precisa poco fa l'autorità di garanzia sugli scioperi che sta seguendo con molta attenzione l'evolversi della vicenda relativa alle agitazioni dei taxi e adesso andiamo a Trapani per una brutta vicenda di cronaca sentiamo Camilla Moreno una lite è andata avanti per ore sino alle 3 della notte quando è accaduto il peggio se ne accorge un vicino che all'alba vede il corpo di Pietro Fiorentino 40 anni a terra senza vita e dà l'allarme siamo in un palazzo in via Omero periferia di Trapani la ricostruzione degli investigatori Fiorentino separato da alcuni mesi ieri sera va a casa della ex moglie Stefania Migali 39 anni iniziano a litigare alzano la voce volano gli oggetti è già successo in passato raccontano i vicini però stavolta scatta la follia l'uomo forse ferisce con un coltello la donna e riesce a chiudere in una stanza tutti i componenti della famiglia che erano a casa la figlia di 8 anni la suocera di 77 ed il fratello disabile della moglie poi dà fuoco all'appartamento e probabilmente per sfuggire alle fiamme si getta dalla finestra il volo dal quinto piano è fatale il risultato è una strage gli investigatori cercano di capire se qualcuna delle vittime possa essere morta prima dell'incendio aspettiamo l'esito dell'autopsia dice il procuratore di Trapani Marcello Viola quanto al movente del folle gesto si ipotizza la gelosia sembra che Fiorentino non si rassegnasse alla separazione dalla moglie i vicini parlano di numerose liti della coppia dell'appello della donna ai carabinieri per essere aiutata ad allontanare il marito di denunce probabilmente sottovalutate Fiorentino a quanto pare continuava a presentarsi in casa a volte anche in pigiama come avrebbe fatto proprio la notte scorsa al momento non risultano però denunce della donna all'autorità giudiziaria l'uomo disoccupato lavorava saltuariamente portando la pizza a domicilio nelle ore serali le sue richieste di denaro alla moglie erano uno dei motivi più frequenti delle liti la donna probabilmente aveva una situazione economica migliore affittando ad anziani alcune camere nella sua casa e c'era un'altra decisione molto attesa oggi questa volta attesa dai mercati perché il consiglio direttivo della BCE presiduta da Mario Draghi ha deciso di mantenere invariato all'1% il tasso di riferimento principale di Eurolandia e continuiamo con le notizie di cronaca perché c'è un altro cronista minacciato dalla mafia per aver raccontato nelle sue inchieste il malaffare delle cosche che operano nel nord Italia da 20 giorni adesso vive sotto scorta il servizio di Maria Covotta Com'è cambiata la tua vita da quando sei sotto scorta? È cambiata nelle piccole cose nella quotidianità nell'andare a fare la spesa ma anche nel lavorare quindi programmare un'intervista e fare un'inchiesta giornalistica comporta chiaramente una pianificazione una programmazione che prima diciamo potevo evitare mi sto abituando e comunque continuo a scrivere vado avanti nella ricerca e nel fare inchieste giornalistiche poi la solidarietà che ho ricevuto mi spinge solo ad andare avanti nel senso che sicuramente non mi fa passare la testa Scrive di mafia di Andrangheta e degli affari delle cosche al nord e i mafiosi parlano di lui per questo Giovanni Tizian giornalista non ancora trentenne calabrese emigrato da bambino con la famiglia a Modena il padre funzionario di banca ucciso a Locri a colpi di Lupara quando lui aveva sette anni da una ventina di giorni è sotto scorta una telefonata dei magistrati poco prima di Natale gli ha cambiato la vita Giovanni Tizian da anni scrive sui siti che raccontano della mafia collabora come precario per la gazzetta di Modena ha scritto un libro inchiesta dal titolo gotica gotica andrangheta mafia e camorra oltrepassano la linea per Tizian quella linea immaginaria creata nel 44 dai tedeschi per fermare l'avanzata delle truppe di liberazione le organizzazioni mafiose l'hanno ormai superata eppure ci sono le indagini della magistratura a testimoniare il livello di infiltrazione nel tessuto economico del ricco nord così come ci sono altri giornalisti che ne hanno seguito le inchieste per questo minacciati e sotto protezione Roberto Saviano Rosaria Capacchione Lirio Abate anche loro come Tizian continuano a scriverne io mi chiamo Giovanni Tizian è l'indirizzo del sito per sostenerlo lui intanto continuerà a fare il giornalista e la Francia invece è sotto shock per la morte dell'inviato di France Day ucciso ieri in Siria sentiamo Nifacola Santo era un reporter esperto Gilles Jacquet con la sua telecamera aveva raccontato tante guerre sempre in prima linea dall'Iraq all'Afghanistan al Kosovo fino alla primavera araba con i suoi reportage dalla Tunisia l'anno scorso aveva vinto il premio giornalistico e l'area Alpi e non era il primo riconoscimento ad una carriera lunga vent'anni per uno come lui dunque era naturale trovarsi in Siria dove da dieci mesi si combatte una guerra civile che ha lasciato sul campo migliaia di morti era ad Homs Gilles ieri pomeriggio inviato per la rete pubblica francese France Day nella città simbolo delle proteste anti-regime nel centro del paese era assieme ad altri colleghi delle più importanti reti internazionali BBC CNN CBS e con altri giornalisti che come lui avevano ottenuto l'autorizzazione delle autorità siriane per visitare la città quando una granata colpisce un gruppo di sostenitori di Bashar al-Assad che avevano improvvisato una manifestazione pro-regime alcuni giornalisti del gruppo accorrono per vedere quello che è successo su di loro piovono altri razzi il reporter francese viene travolto dall'esplosione e muore sul colpo assieme ad altre otto persone tutte siriane quello che accade viene ripreso dai cameraman presenti sono immagini strazianti la compagna di Gilles Caroline fotografa è lì a pochi metri un altro fotografo olandese viene gravemente ferito al volto un cameraman francese ad un braccio la tv siriana nel dare la notizia accusa il movimento anti-Assad e li chiama terroristi dopo il ministro degli esteri Juppé anche il presidente francese ha chiesto alle autorità siriane l'apertura immediata di un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto sulla terribile morte di un uomo ha detto Nicolas Sarkozy che stava facendo il suo lavoro e che ci ricorda quanto sia difficile ma allo stesso tempo importante in queste situazioni raccontare la verità siamo adesso allo sport dalla neve di Madonna di Campiglio Alonso e Massa parlano della nuova Ferrari di una nuova stagione la prossima che dovrà essere quella del riscatto la nostra inviata Cristina Fantoni in certi casi anche se sotto la luna piena dopo cena e rifugio fiaccolata e bagno di folla la notte non porta consiglio ed ecco che un mattino dopo Fernanda Alonso si presenta in versione José Murigno alla conferenza stampa sulle nevi di Campiglio non lo so risposte secche pochi sorrisi nessuno slancio per il pilota più comunicativo e solare del circuito basta e avanza per mostrare l'amarezza di un matrimonio finito da poco e poco rispettato dai media cerchiamo di minimizzare perché ormai sappiamo che il giorno dopo si scrive random quello che arriva in testa e dipende come come l'umore del giornalista al pomeriggio di fronte alle telecamere che non possono scrivere random invece Alonso si rilassa e spiega perché non è comunque obbligato a vincere in una stagione in cui la Ferrari parole di Domenicali conterà su una monoposto rivoluzionata penso solo totalmente felice e soddisfatto se vinciamo il titolo come lo posso essere in 2011 o 2010 però sullo sport è impossibile parlare di obbligo e l'obbligo di vincere ce l'ha senza dubbio Felipe Massa reduce da una stagione incubo senza podi deve convincere la Ferrari a rinnovargli il contratto paradossalmente il più ottimista è lui tanto da fargli promettere che tornerà a essere il più veloce di Fernando Alonso e di tutti gli altri piloti quindi l'importante è avere la macchina che funziona bene diversa e questa è la cosa principale resta più facilmente Massa alla Ferrari o Pato al Milan? Massa alla Ferrari infatti questa è la direzione che sta prendendo il calciomercato con Galliani in Inghilterra per Tevez e Pato vicino all'addio sentiamo Alberto Nigri la controffensiva del Milan è partita prestito non più condizionato ma con obbligo di riscatto fissato 25 milioni più 3 di bonus questa è la nuova offerta di Adriano Galliani per arrivare a Tevez un'offerta che in teoria segna il nuovo sorpasso rossonero sui cugini dell'Inter non fosse altro perché il Milan può anche contare sul consenso del giocatore e sulla possibilità di inserire nell'affare un giovane centrocampista che piace molto all'allenatore del City Roberto Mancini ossia Merkel ora in forza al Genova e in comproprietà con i rossoneri l'affare Tevez vive ore decisive così come quello di Pato Milan e Paris Saint Germain sono un passo dall'accordo l'offerta francese è salita a 28 milioni Galliani ne chiede 35 è probabile che si chiuda a metà strada cioè a 32 e più bonus vari legati a presenze gol e assist del giocatore i soldi ricavati dalla cessione di Pato servono non solo per finanziare l'operazione Tevez ma anche per acquistare un altro attaccante visto che l'argentino non potrà giocare in Champions Galliani sta vagliando varie piste l'ultima porta il bianconero a Mauri che interessa pure la Fiorentina la società Viola è sempre alla ricerca del sostituto di Girardino dopo aver capito che in attacco il solo Jovetic non basta e il serbo Ljajic non convince del tutto l'ennesima conferma a Deglio Rossi l'avuta ieri sera contro la Roma ottavi di finale di Coppa Italia ai Viola non è bastato giocare un ottimo primo tempo le invenzioni di Jovetic sono state vanificate dagli esori di Ljajic la Roma ha faticato poi si è accesa nella seconda parte della gara con verticalizzazioni veloce e improvvise Totti ha disegnato calcio sia pure a sprazi e il giovane Lamela ha esteguito diventando il grande protagonista del match e non solo per la doppietta il sigillo del terzo gol è di Borini bravo ad approfittare di un erroraccio del portiere Neto Luis Enrique ha così vendicato l'umiliante sconfitta subita in campionato soltanto 38 giorni fa ora ai quarti i giallorossi troveranno la Juventus mentre il Chievo che ha superato l'Udinese affronterà il Siena questa sera toccherà il Napoli giocarsi in passaggio ai quarti contro Cesena ci fermiamo per una pausa tra poco non ci sono aggiornamenti vi ricordo solo che la Camera deve ancora votare sulla richiesta d'arresto nei confronti del deputato del PDL Cosentino tutti gli aggiornamenti li troverete sul nostro sito tgla7.it e poi vi ricordo l'edizione delle 20 grazie per averci seguito buona giornata